Ho scritto una poesia su San Lorenzo, su questo 10 agosto, che dovrebbe essere un giorno di grandi aspettative, fatto di serenità, di gioia, di speranze e ora più che mai lo desideriamo. Che stiamo tutti bene, in salute e che non ci sia più l'incubo del Covid. Un desiderio che riguarda che cosa? Di amore e di felicità. Per chi? Non lo so, non c'è ancora, chissà che arrivi presto. Essere felici insieme dà una cosa semplice. Confermo. Progetti per il futuro? Tornare a viaggiare di più. La pace, la serenità per tutti e un miglioramento delle condizioni economiche. San Lorenzo quello mi deve dare, che resti così come sono io e tutta la mia gente, i miei nipotini e tutta la cosa più bella. Che passi questa pandemia. Pandemia e poi? E poi che vada tutto bene, che stiamo tutti meglio. All the best. Sono che la mia bimba sia con salute. Grazie. Grazie.